Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Come gli altri da l'espai, seguiremo ballando. Che se facin dipendendo con i le ansietà che avui non ci sono la vita. Che poter non ci sono l'especiale, che non ci sia uguale che avui faremo un festival. Grazie a tutti! Grazie a tutti.